Perfetto, siamo qui oggi con i due capitani delle squadre, buongiorno, o meglio buonasera, 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 allora come è nata la partita? Posta, loro erano messi veramente bene in campo, erano belli i soldi, piazzati bene per noi. Diciamo che noi abbiamo cercato di mettere sull'esperienza perché in sette contati in questa serata dove sembra che l'Italia ha avuto dischette per i pezzi e anche a San Siro, non lontano da qua, loro sono una gran buona squadra, siamo le prime in classifica, siamo in un momento di girone, sa dove è la partita. Penso che alla fine il pareggio sia il risultato giusto. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi per essere stati con noi.